In Corso Italia e Via dei Pileati, in tutto il centro storico, abbiamo visto un buon numero di turisti. Alcuni di questi sono entrati anche qui a Casa Bruschi? Assolutamente, sì. Questo fine settimana di festività pasquali, Casa Bruschi ha deciso di rimanere aperta sia per il giorno di Pasqua che nella festività della Pasquetta, quindi anche lunedì rimarrà aperta. Con questo nuovo contest che abbiamo lanciato proprio in occasione della mostra che abbiamo su in collaborazione con la Fondazione Alinari di Firenze, per cui abbiamo queste 56 splendide foto, abbiamo deciso di creare questo contest dal titolo Scatti da Collezione, in cui chiediamo ai visitatori di scattare con il proprio smartphone una foto di un oggetto, di uno scorcio, di una vista che più l'ha appassionato e poi le migliori le pubblichiamo direttamente sui nostri canali Instagram, così da far conoscere Arezzo il collezionismo e l'antiguariato anche a tutta Italia grazie ai nostri visitatori fotografi. Quindi le nuove tecnologie incontrano la tradizione? Esatto, sì, cerchiamo un po' di, questo un po' da sempre, di creare questo legame perché può veramente permetterti di farti conoscere, di aiutare tutti a conoscerti.